di quello che è stato quel fattaccio, quindi l'unico strumento che in questi casi nel giornalismo d'inchiesta è veramente fondamentale è il passato e quindi le carte processuali giudiziari e d'indagine che hanno costituito il primo incidente di questa storia e quindi il fascicolo sussurvito in diversi soldoni del 75 e del 76 dell'unico processo all'unico colpevole ufficiale Giuseppe Veloso, allora minorenne, che è stato poi condannato dopo diversi gradi e diverse vienze nel 79 l'unico colpevole Veloso, intanto nonostante le riaperture almeno due ufficiali, una un po' meno che si sono alternate nel corso degli anni e parlo del 95 e quello del 2005 e che ovviamente risalgono a degli anniversari della morte di Pasolini perché comunque soltanto in corrispondenza ad alcuni anniversari di morte si accende con la ricerca della verità e questo è facile capirlo proprio per i motivi che tu hai illustrato poco fa verso la fine del transvento e appunto neanche in quell'occasione chi si è occupato delle indagini ha ritenuto giusto compulsare per intero tutta la documentazione, nella documentazione le fotografie che sono poi io definisco nel libro le evidenze della verità, le evidenze dei fatti sono i documenti più importanti che ancora ci dicono qualcosa sulla morte atroce che ha subito Pasolini, purtroppo utilizzare queste foto non mi è esposta in modo benevolo sia da parte, diciamo sia per quanto riguarda i pasoliniani ci accaniti, non tutti ovviamente chi è veramente attrezza ha capito l'importanza di questo lavoro e sia da parte di chi non ha mai ritenuto necessario fare questa verifica. Ti posso interrompere un attimo su questo punto perché è un punto importante e tra l'altro ha a che fare con l'ambiente culturale da cui appunto proveniva Pasolini. Allora se non ricordo male fu proprio uno degli amici più stretti di Pasolini, Alberto Moravia che disse, perché fu l'unico a poter vedere il corpo insieme a Naldini, che disse un uomo solo non può ridurre un altro uomo in quelle condizioni e appena ho visto le foto che tu hai pubblicato l'associazione con quelle parole è stata immediata, cioè la cosa era chiara fin dall'inizio, questo voglio dire, soprattutto nel giro degli amici di Pasolini che in parte si sono battuti perché si riaprissero le indagini. Sì, il fatto è che Moravia però diciamo che inizialmente anche lui si accoda un po' a quello che è stato il sentire comune, quindi il fatto che quella morte, questo bisogna dirlo perché sennò diciamo che Moravia anche lui all'inizio, proprio perché conosceva l'abitudine di Pasolini eccetera, aveva pensato anche lui subito a un contesto maturato in un ambiente marciare, omosessuale, poi ovviamente per fortuna da intellettuale, qualche intellettuale quale era aveva cominciato a capire e a collegare i pezzi, almeno dal punto di vista così, diciamo di quello che è la logica intellettuale, non certo dal punto di vista giudiziario, tra l'altro c'è un fatto inedito che riporto nel libro che riguarda Moravia e che mi ha riferito lo scritto da Renzo Paris durante un incontro di qualche anno fa mentre ricostruivo i pezzi di questa storia. Moravia era stato chiamato dai magistrati al tempo per riferire, perché lui riferì di un insegnamento cui lui pensa di essere stato sottoposto mentre si recava all'idroscala quella mattina sempre insieme a Paris, però di questo pensato è tale, perché ogni volta che c'è un interrogatorio, anche di un testimone a conoscenza dei fatti o così come si chiamano nel gergo verbali di informazione sommaria, non c'è traccia, proprio perché ho compulsato tutta la documentazione vecchia e in parte anche nuova, non c'è traccia di questo verbale e questo è uno dei punti fondamentali di questa ricerca, cioè l'apparizione di importanti testimonianze che avrebbero potuto fin dall'inizio rappresentare una svolta nelle indagini sulla dinamica. Ovviamente questo insegnamento di questa moto che ricorre anche in alcuni racconti di Furio Colombo era fondamentale, quindi questo è un dato inedito. Ecco, ritornando alle evidenze dei fatti, quelle di cui parlava anche Pasolini, in quella famosa intervista sempre a Furio Colombo, l'ultima della sua vita, quella del primo novembre, quello che ha reso possibile illuminare sulla modalità della morte, che non serve per uno scopo più originoso o così di speculazione sul sangue e sulle condizioni in cui era versato Pasolini, ma serve per capire come è andata quella notte ed è quello che ho ricostruito attraverso anche le foto, ma non soltanto attraverso le testimonianze, attraverso la documentazione spesso inedita. Alcune di queste foto, nonostante tutto quello che è uscito nel corso degli anni sulla vicenda del massacro a Pasolini, che io ci tengo a sostenere, poi spieghiamo perché ho usato questa parola un po' particolare, un po' forte, anacronistica, se pensiamo che il massacro di cui parlo è stato perpetrato ad un solo uomo, però poi lo spieghiamo. Ecco, due di queste foto, che ci tengo a dire, ne ho utilizzate solo due del suo corpo nel libro, sono soltanto riferite, diciamo, principalmente alla funzione dell'impresa. Quindi in queste due foto specifiche io vi mostro il passaggio fascista mai dimostrato prima sul corpo di Pasolini e il passaggio e la traccia di altre ruote, di altre ruote di veicoli presenti quella notte e non soltanto della doppia presenza, non so se i lettori sanno tutto, però comunque negli anni del 2010, specialmente grazie a una testimonianza più importante, si viene a delineare la presenza di una doppia alfa GQ, del tutto uguale, ad eccezione che è del colore, a quella di Pasolini. Ma la mia inchiesta arriva dalla presenza concreta di un'altra macchina, quindi si comincia a capire, e lo definisco bene nel libro, quanto fosse appollata, il campetto chiamato il campo degli zingari allora, dell'ideoscalo di Ostia, in cui venne assassinato Pasolini. Ecco, quelle foto, inclusa la foto inedita del veicolo che ha ucciso davvero, sormontandolo, non solo lui, ma uccidendolo però Pasolini e provocando determinate ferite che hanno comunque causato la morte. Ecco, dall'analisi di queste evidenze, dalla raccolta di carte e fatti mai messi in ora, ho ricostruito questo quadro terribile ma necessario. Certo, la tua inchiesta è stata chiaramente puntata molto sulle prove, sugli elementi di prova sulla ricostruzione di un ragionamento che collegasse tutto, ma soprattutto, come dicevi tu all'inizio, nel cercare il contesto giusto di questa vicenda. Perché se non si parte da lì non si può tentare di mettere insieme cose che possono sembrare distanti tra di loro. E il contesto giusto, mi sembra di capire da quello che ho letto, è che siamo in piena Italia stragista, in piena Italia dove le differenze tra i percorsi dei servizi segreti, i percorsi della criminalità organizzata e dei fascisti sono sempre di meno, anzi sono sempre di più in questo caso. Mi sembra che sia un po' questo l'architrave di tutta la vicenda. Sì, hai assolutamente descritto bene, nonostante la città di sintesi, l'architrave, anche se per certi aspetti è molto più complesso, ma assolutamente la struttura è questa. Quando la fallaci al tempo che non scrisse, io lo ribadisco perché al uscire dall'ordine che niente di noi può sapere della fallaci, che da un certo punto in poi, come anche lei stessa aveva scritto in un libro, ha cambiato un po' rotta per quanto riguarda la lucidità che la contraddistingueva, ma in quei tempi la fallaci era una leonesse del giornalismo, quindi diciamo che non ha mai utilizzato, perché non aveva elementi, pezzi d'appoggio, le chiamiamo noi in gergo, per poter almeno indicare come giornalista, non provare, perché le prove le portano solo gli inquirenti, la magistratura, le prove giudiziari vere o investigative, la presenza dei fascisti, lei ha cominciato soltanto a dinamellare, raccogliendo elementi diversi da quelli che stava raccogliendo la struttura inquirente, la magistratura allora guidata da altri obiettivi, come riferisco bene nel libro e il fatto che lei sapesse della presenza dei fascisti era un qualcosa che aveva saputo da due fonti, ma che non poteva invitare in un'inchiesta come era quella allora al tempo dell'europeo e ci tengo pure a dire che nelle nuove indagini, quelle ultime che si sono chiuse e attiviate nel 2015, il lavoro della fallacia è molto presente ed è stato in parte confermato dagli inquirenti, questo disegnativo non è soltanto la presenza della moto dei borsellini, ci sono diverse cose e che io ho ritenuto giusto rilevare, perché troppo è stato fatto contro questa donna per certi aspetti, ma al di là di questo la presenza fascista non è soltanto che non è poco nel dimostrare le modalità e i segni sul corpo dei borsellini, questo comunque è il primo passo, ma anche nella ricostruzione in parte emerita, in parte sviluppata da quello che altri che avevano portato a scopo di questo, senza però dare un segno incisivo, ho effettuato su alcune organizzazioni di estrema destra che ruotavano intorno ad alcune principali e parlo di avanguardia raccordi non nuove le principali, poi c'è una terza ordine nero che è una delle diciamo galaste che si muovevano intorno a queste principali, ma comunque da essere dipendenti e creata, questo viene ricostruito dalle varie commissioni straggi e dai documenti che ho compulsato, dal diminale stesso, ordine nero è presente, questo ci tengo a dirlo, fin dall'inizio nel fascicolo che riguarda il processo contro Fino Pelosi e la morte di Pasolini, quello che ho detto, e questa è una cosa fondamentale che poi nel libro spiego portando altri elementi concreti e collegando personaggi e fatti che appunto stanno tutti in quel periodo in senso la cui rappresentazione più ovvia era l'apice della strategia della tensione che comincia un po' a diminuire tra il 75 e il 76 in poi per riaprirsi nell'80 con la strage di Bologna. Ci sono degli aspetti della strategia della tensione che riguardano anche l'estrema sinistra e che purtroppo a sinistra non vengono mai indicati, a parte l'ovvia, diciamo, zoccolo duro che è quello, diciamo, le versioni di destra e i servizi di rinforzamento.